ciao a tutti vado a vedere insieme a voi questo porta lampadine retro della marca kingso il prodotto come avete ben visto è all'interno di questo sacchettino di plastica trasparente devo dire che a differenza di come me lo aspettavo dalle foto delle dimensioni veramente contenute che si aggirano attorno ai 6 centimetri di lunghezza per 3 centimetri di diametro poi all'interno potete vedere la filettatura dove si andrà ad avvitare lampadine a bulbo e 27 da 110-220 volt che nel complesso devo dire creano un effetto un po retro ovviamente potete andare inserirci anche delle lampadine affini in termini di materiali abbiamo del rame al di sopra c'è appunto il foro per infilare il cavo e qui appunto ci sono anche i vari i vari fuori per andare inserire sempre il cavo